Buongiorno Buongiorno mi sono svegliata alle 10 sono stata bravissima oggi mi sono svegliata alle 10 che capelli osceni però mi devo ancora preparare come vedete e sono adesso le che bello non riuscirò a parlare mi pare sia l'una e io probabilmente devo pranzare con il mio ragazzo pranziamo fuori perchè abbiamo deciso di fare questa cosa perchè io ne so domani è la vigilia quindi festeggiamo in anticipo adesso stavo qua stavo guardando un po' di real time tipo alta infedeltà queste cose qui e ragazzi qui ci sono tutti i regali io sono troppo contenta ieri ho aperto un regalo il primo regalo perchè gli altri ho voluto aspettare no in realtà ieri ho aperto i regali delle mie amiche e in più uno dei regali che erano sotto l'albero dovete sapere che mia madre e le sue colleghe si scambiano i regali ciao mamma era andata a fare spesa e mi è stato regalato mi sono stati regalati questi guanti qua molto carini che sono più che guanti tipo scaldamani sono troppo belli ora inizierò a mettere a posto il letto fare il letto dormo di là lo ridico dormo in camera mia ma mi metto qua perchè c'è la televisione e perchè lo trovo molto comodo qua abbiamo le mie ciabattine con il riccio si oggi ho dormito in pantaloncini cioè guardate trependo trependo solo che tutti i pantaloni del pigiama erano a lavare fantastico cose belle e non ho assolutamente neanche una minima poi il letto vabbè ancora non l'ho fatto una minimissima idea di che cosa mettermi oggi per mangiare però pensavo dato che siamo al 23 io sono troppo contenta che se nota di vestirmi in maniera devo aprire la serranda dicevo in maniera molto natalizia qui c'è una luce oggi assurda cioè non sembra per niente inverno quindi c'è una luce veramente assurda e noi senza che mi dimentico apriamo il calendario dell'avvento del penultimo giorno quindi mi mancherà troppo questo rito dunque il 23 è qua sono troppo curiosa che arrivi domani per aprire questo che è grande c'è scritto che ho una sorpresa e niente apriamo l'ultimo giorno eccolo un'altra verde che è una delle mie preferite in assoluto perché non capitavano spesso e insomma è molto particolare poi è verde ed è molto bello questo colore finalmente ho un po' di verdi guardate quante candele abbiamo accumulato facendo questo calendario dell'avvento e tra un po' lo riponeremo certo lo terrò qua come addobbo per tutto il periodo festivo però insomma ci mancherà parecchio io si tengo tanto che la mia pelle sia nelle migliori condizioni possibili quindi adesso vedrò come fare intanto questo è finito il mio fondotinta è finito mannaggia metto un bel po' di correttore lo metto sotto le occhiaie e in tutte le zone che non mi piacciono perché sennò veramente quindi qua sotto di qua per tutta sta salita cioè dappertutto questo fondotinta è davvero una mano santa cioè già va molto 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 meglio quindi lo adoro ed è della Revlod e per questa crosticina che ho qua uso una cosa leggera quindi questo qua della Kiko che adesso si è tolta la marca che è parecchio chiaro come colore e lo vado a mettere qui giusto per coprire e non interferire troppo perché comunque non ho fatto niente di che l'ho solo colorato del colore della pelle così si toglie il rossore tutto qua rossetto ovviamente scuro che sta troppo finendo e come ombretto andrò a applicare un oro di questi qua che ho messo anche al saggio per ultimo ovviamente il mascara e poi il trucco finisce bene questo è come mi sono vestita mi sono messa questa felpa che è del mio papino e i leggings neri stivali la coda alta perché ci stava bene e poi mi sono truccata e adesso devo dato che non riesco a mettere i vlog in tempo perché sto avendo dei problemi col telefono e già è salvato del rullino foto devo metterlo dal computer quindi niente e tra 5 minuti arriva il mio ragazzo che dobbiamo uscire perché non siamo riusciti a pranzare insieme ok e basta stasera ritorneremo tutti a pattinare sono troppo contenta pattineremo di nuovo e basta adesso metto il video metto il video in borsa come sempre e niente sono pronta ora dovrei allacciarmi il giacchetto e sono finalmente pronta mi sono messa anche i guanti anche se non fa così tanto freddo anzi è una bellissima giornata e niente non ci credo domani non c'è la vigilia di Natale sono troppo troppo contenta veramente e l'aspettavo con gioia solo che domani non starò con tutta la famiglia così ma starò solo con mamma e papà e dopo domani starò proprio con la famiglia di Ambro e l'Umbria come tutti i Natali e niente quindi domani non sarà una cosa enorme una grandissima vigilia piena di familiari però faremo comunque cose abbastanza fighe bene sono scesa e ho la mia pelliccia adorata quanto mi piace sto aspettando Francesco ovviamente perché lui è puntuale in IAFAS e e vabbè e sto sotto casa mia sto girovagando oggi c'è una giornata bellissima cioè non c'è una nuvola io non la vedo tutto sto grandissimo inverno guardate a parte il freddo e vabbè quello ci sta però vi giuro che le giornate in totale dei vlogmas perché io me le riguardo dove c'era un tempo che si può dire invernale erano due dove pioveva e faceva tipo le cose invernali due tutto il resto c'è stato sempre sto cielo serenissimo senza una nuvola cioè veramente se non c'è fosse il freddo si potrebbe stare a mani guardate quel cielo che c'è cioè il mio ragazzo mi guarda malissimo è arrivato alla buonora eccole ritardatario ciao parecchio sono brutta oggi il mio ragazzo mi dice che oggi sono brutta ma non è vero dove stiamo andando? non lo so non da così vicino amore che pare pare che sta con un gesto e già stai zitto sto scherzando amore sei bellissimo mi sa crescere i capelli guardate che schifo youtube perchè? così a rango beh fai schifo te vedete diteglielo in coro e niente stiamo andando al centro vero? youtube fa cagare seguito quel canale con l'unico a me va bene va bene va bene io qua ho una crosticina ok ciao 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 guardiamo quello è bello tu sei il mio cielo e stiamo italiano e adesso lì c'ho tiger che adesso non si vede lì giù e quindi andiamo un po' a vedere vero amore? in compresi tutti gli incompresi? giovanni ha avuto un'infanzia pesissima cioè allora guarda volontario che figo questo allora far video? bravo anche io mi sento un po' incompresa a volte siamo da festinelli ciao di grottino amo vabbè siamo da storia magia guardate che bello buon appetito ora mangio questo l'ho aperta un make a basso con dentro altre due bagi veri e vabbè un buon apparito amore amore guardami ciao carissimi ciao carissima saluta bene siamo da abbrascata a borsa e che cazzo amore però eh qui c'è stanno cagli e fiero che pomisano ma guarda che carini bene e basta meriem dai però me la fai comparisciare ieri qui vabbè i capelli sono comprati mi togliete questo mi togliete questo mi togliete questo non bevi non bevi idea ok allora il vlogmas finisce qua vi saluto e i vlogmas però non finiranno il 24 come gli altri però il 6 finiranno il 6 sono ancora a ponte miglio qua ci sta francesco bella e francesco ciao i franceschi e noi stiamo tornando alla macchina adesso andiamo a dormire a dormire vabbè è ufficialmente il 24 dicembre quindi auguri qua dalena tutto un bacio grande ciao